Ciao, astronomersi! Se ti chiesti come puoi collegare l'EGLE con il tuo telescopio, hai trovato il video giusto. Qui parleremo di connessioni di meccaniche dell'EGLE e del nostro sistema di ringe, clampi e doppie bar che ti permettono di collegare l'EGLE a un telescopio diversi. Iniziamo! Uno degli avvantaggi dell'EGLE è che puoi installarlo facilmente su qualsiasi telescopio, grazie al chassi specificamente designato. In effetti, come puoi vedere, l'EGLE viene con molti fili trattati, tanto sul top e sul basso della sua macchina alluminio, permettendo di collegarlo a qualsiasi telescopio, non importa il design del telescopio e la dimensione, è sufficiente versatilico di essere installato in diverse posizioni sul stesso strumento. E questa è la principale motivo per cui abbiamo designato un completo catalogo di tutte le parti meccaniche che ti necessitano per permettere a te di collegare l'EGLE a qualsiasi telescopio. Lo chiamiamo PLUS, che significa Prima, Luce e Universal Systeme, e inclui tutti i ringe supporti, ringe guida, spaceri, doppie bar e doppie bar, che ti usi per integrare l'EGLE con il tuo telescopio. Guardate la posizione della posizione della posizione dell'EGLE. La posizione della posizione corrisponde a tutte le nostre parti meccaniche meccaniche, che mi permettono, per esempio, di installare l'EGLE sulla top di ogni supporto di supporto di plus, connesso il componente con due strumenti, non uno, per evitare alcun flessore. Questa è la configurazione perfetta per se hai un refractor con un telescopio di guida in parallelo. Puoi installare i ringe guida di plus sull'EGLE per supportare il tuo telescopio di guida, e questo creerà, insieme con il plus dot del bar, sotto le ringe supporti di plus, un caccio rigido per il tuo telescopio, che evitare alcun movimento non vuoto durante la tua immagine. Se il tuo refractor ha una tuba più lunga, o se hai un telescopio di Newton, un telescopio di un telescopio di un telescopio, avrai un'increedza separazione tra le ringe supporti per la possibilità migliore. In questa situazione, il tuo ringe guida sarà troppo corto per essere collegato direttamente sul top delle ringe. Ma hai una soluzione perfetta, con installare in posizione in reversa e sul top delle ringe supporti, la stessa bar che installi sotto le ringe. Questo permetterà di installare sicuramente l'ingale e il tuo telescopio di guida sulle vostre OTA. In configurazioni più piccoli, grazie alla costruzione rigida dei componenti Plus, puoi anche lasciare i vostri OTA, l'ingale e altri accessori tutti insieme come un sistema completo, rendendo il trasporto, il trasporto e il risultato molto più veloce e più facilmente. Grazie al design dell'EGLE Plus Chassis, connetto il Plus Dove del Bar alla bottom dell'EGLE, puoi anche installare l'EGLE sotto le ringe supporti, se il tuo telescopio non è troppo facile. Se hai un tipo di telescopio diversi, come un Schmitt-Cassegrain, e un Planatic-Smith-Cassegrain, o un telescopio Ricci-Cretien, tu hai diverse opzioni per la tua installazione. Un'altra forma è installare il Plus Dove del Bar con blocchi corti sui telescopio, permettendo di connettere l'EGLE sulla top. Un'altra forma di connettere l'EGLE a questo tipo di telescopio è di connettere il Plus Dove del Clamp con l'EGLE usando i 4 ruoli che corrispondono con i ruoli in l'EGLE sull'EGLE. In questo modo puoi clampare l'EGLE a qualsiasi Dove del Bar e l'utilizzare come un controllo che potrebbe aiutare a contrarciare l'aspetto dell'accesso dell'EGLE se hai un treno di immaginazione grande e l'immaginazione di immaginazione. In un modo simile puoi afficcare un Plus Dove del Bar sull'altra parte dell'EGLE e avere il Plus Dove del Clamp sull'altra parte. Questo permette di installare l'EGLE direttamente sull'EGLE sull'EGLE con un rilasso per i tuoi o telescopi compatri. Queste sono alcune delle più comuni di connettere l'EGLE con il tuo telescopio. Grazie a molte possibilità offerte dal sistema Plus. Sono sicuro che gli useri di tutto il mondo sono rinstalzando l'EGLE in altre mani creativi. Per più contenuti che aiutano a esplorare l'università come un pro, abbiate al nostro canale e CLEAR SKIES! in l'EGLE Grazie per la visione!